Quindi io vi ringrazio e chiudo con la riflessione tornando alle mamme e al papà a tanti ragazzi che vedo qua in piazza e pensando a una categoria a cui questo governo dà particolare attenzione che teoricamente la sinistra riteneva cosa sua negli anni e parlo della scuola e parlo degli insegnanti e del personale scolastico. Sono orgoglioso che questo governo e il ministro Valditara abbia riportato nelle classi non solo il rinnovo del contratto per gli insegnanti ma soprattutto la cosa più importante che ci può essere in un'aula scolastica perché poi dei bravi ragazzini diventano dei bravi adulti. Nelle aule delle nostre scuole, lo dico da papà, stiamo riportando qualcosa che non ha un corrispettivo economico, il rispetto e la buona educazione.